vi risulta antipatica cerchio ifior attraverso tullia e gian meditate un attimo per quale motivo una persona vi risulta antipatica non può essere che forse non dipenda solo da lei non può essere che il suo comportamento e il suo parlare colpiscano qualcosa di dolente in voi cosicché vi rifiutate di riconoscerlo e nascondete a voi stessi le vostre ferite facendo scaturire in voi quella reazione che siete usi definire antipatia sapete che significato ha all'origine la parola antipatia vuol dire contro la sofferenza ma la sofferenza di chi della persona antipatica o la vostra o quella di entrambe